strage in cadore il punto della procura non è stato un investimento volontario ma un secondo video prima dello schianto mostra la 32 n tedesca in uno scatto di ira al volante appello alla famiglia della donna fatevi avanti venerdì alle 10 e 30 tavaro veneto l'addio al piccolo mattia al papa marco e alla nonna maria grazia un'unica commossa cerimonia che antenna 3 seguirà in diretta 17 mila firme raccolte nel veneziano contro italia la sanità veneta e consegnate a palazzo ferrofini la protesta dei sindacati serve un cambio di passo un protocollo condiviso tra regione ance e prefetture per sperimentare un'accoglienza diffusa di migranti l'ha annunciato il presidente zaia ma il pd replica il veneto è in ritardo gioco d'azzardo ispezioni di guardia di finanza e agenzia di monopoli 11 le violazioni amministrative commesse sanzioni per circa 100 mila euro il comitato villaggio san marco ha presentato un ricorso al tar contro la costruzione di un grattacielo un centro commerciale in un'area verde del quartiere è l'ultimo atto di una mobilitazione contro il progetto ennesimo tuffo cafone a venezia un turista ha preso la rincorsa lanciandosi dal ponte senza guardare e ha sfiorato una gondola ben trovati buonasera telespettatrici telespettatori di antenna 3 ancora una volta la strage di santo stefano di cadore in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali oggi il procuratore capo di belluno ha fatto il punto sull'inchiesta il profilo di responsabilità che è stato ritenuto in questo momento è quello di aver viaggiato a una velocità superiore a quella consentita e comunque tenendo una condotta di guida non adeguata alle caratteristiche del posto giovedì scorso angelica utter non si trovava alla guida sotto l'effetto di alcol o droga non stava utilizzando il cellulare ma è verosimile che fosse in uno stato d'ira per motivi ignoti e che questo abbia allentato alterato la sua attenzione rendendo possibile ciò che è accaduto a santo stefano una manciata di minuti prima dell'incidente la donna viene ripresa da una telecamera in una zona poco distante da via udine avrebbe avuto lo cito perché c'è già nell'ordinanza una reazione diciamo imprevedibile scomposta dopo aver riempito d'acqua alcune bottiglie a una fontana che si trova vicino alla strada dove è venuto l'incidente dove si era fermata con gli sportelli aperti tutti e quattro e anche il sportellone posteriore viene riferito dal testimone avrebbe improvvisamente chiuso con forza portiere sportellone avrebbe lanciato per aria alcune delle bottiglie che aveva riempito e sarebbe partita partendo avrebbe compiuto una manovra di inversione nel piazzale di un'officina che viene riferita da un'altra persona la quale sostiene che questa manovra fu molto repentina e pericolosa tanto poi da rischiare di entrare in collisione con un'altra autovettura quella della testimone che si era che stava uscendo da un passo carraio e che se l'è trovata di fronte elementi che potrebbero avere avvalorato l'ipotesi tanto grave quanto suggestiva di una volontarietà dell'atto che hanno convinto il procuratore luca ad esporre alla stampa convocata al comando provinciale dei carabinieri di belluno con decreto lo stato delle indagini per evitare ricostruzioni che possano portare ulteriore carico di dolore ai familiari delle vittime la 32enne bavarese accusata di omicidio stradale plurimo per avere investito e ucciso tre persone e tra loro un bimbo di soli due anni ieri la donna non ha partecipato all'udienza di convalida della misura cautelare in carcere confermata dalla gip enrica marson perché ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di venezia per accertamenti sul suo stato di salute ieri è stata ritenuta non in condizioni di partecipare coscientemente all'udienza di convalida dell'arresto e questo non significa che ci sia una premessa che apre le porte alla incapacità di intendere di volere una situazione temporanea chiarito il procuratore che potrebbe anche dipendere dal shock post traumatico e quindi non essere legata a situazioni pregresse di disagio anche se proprio in ordine al disagio vi è più di un indizio rispetto alla modalità di vita intrapreso dalla giovane che da mesi in solitudine girovagava con l'auto intestata al padre che era diventata la sua casa non stava telefonando quindi l'ipotesi della distrazione a uso del telefono cellulare andrebbe al momento esclusa e ovviamente per capire date queste zone d'ombra molteplici che cosa è accaduto sarebbe molto importante avere il contributo diretto della della utter al momento affermato il procuratore la utter ha detto di non ricordare alcunché certo sarebbe importante se i genitori che non hanno ancora inoltrato richiesta di colloquio si facessero vivi per consegnare eventuale documentazione medica pregressa utile ad accelerare il procedimento per ora si procede con consulenze tecniche e acquisizione di informazioni successivamente quando cesseranno le condizioni che hanno determinato il ricovero della utter in ospedale ci saranno cinque giorni di tempo per procedere all'interrogatorio che è obbligatorio appena l'estinzione della misura cautelare e c'è la data ufficiale dei funerali delle tre vittime venerdì mattina alle 10 e 30 a favaro veneto cerimonia che antena 3 e trasmetterà in diretta è arrivato nulla osta per i funerali di marco antoniello maria grazia potente il piccolo mattia e con esso la conferma che il funerale sarà celebrato venerdì alle 10 e 30 nella chiesa di sant'andrea favaro veneto proprio questa mattina si è svolto un secondo sopralluogo tra vela la municipalità la parrocchia il comune per pianificare la logistica della cerimonia funebre che sarà seguita in diretta dalla nostra emittente mentre nel municipio di favaro è in corso una sottoscrizione di raccolta fondi per aiutare le famiglie antoniello e potente questa mattina è disponibile presso la municipalità di favaro un libro dove i cittadini possono venire a firmare e a scrivere il loro pensiero verso i familiari delle tre vittime innocenti della tragedia in mane di santo stefano di cadore è il momento di far sentire la nostra vicinanza ringrazio quanti verranno a portare il loro pensiero e a firmare ringrazio quanti contribuiranno a diffondere questa notizia intanto giovedì alla vigilia del funerale ci sarà una fiaccolata dei cittadini alle 21 e 15 dalla chiesa di sant'andrea di favaro alla chiesa della natività di dese organizzata dalle maestre della scuola materna mentre continuano ad arrivare messaggi di vicinanza come quello dell'ex direttore dell'ulstre serenissima che conosceva bene maria grazia il marito e la figlia elena tutti dipendenti dell'azienda sanitaria siamo molto vicini alla famiglia potente e naturalmente c'è questo dispiacere molto forte di quello che è successo i temi della sanità oggi si tina di protesta davanti a palazzo ferrofini noi chiediamo un aumento dei finanziamenti alla sanità pubblica chiediamo al consiglio regionale di schierarsi per chiedere al governo un aumento dei fondi servono risorse per far funzionare il nostro sistema per permettergli di assumere personale di pagarlo adeguatamente e di fare in modo che anche i veneti non debbano aspettare mesi e mesi per una visita oltre 15.000 firme raccolte da chioggia a portogruaro lungo tutta la città metropolitana di venezia per chiedere un rafforzamento della sanità pubblica per l'abbattimento delle liste d'attesa e contro i tagli e le privatizzazioni che secondo la cgl minacciano il settore il corteo del sindacato arriva in calle larga 22 marzo per depositare la petizione in consiglio regionale firme che denunciano una sanità che non viene più considerata un fiore all'occhiello del veneto è del tutto evidente che è una favola che continuiamo a raccontarci e lo dimostrano le numerosissime cliniche private che stanno prendo anche nel nostro territorio privato ovviamente non viene per fare beneficenza fa per fare il proprio business ma viene perché c'è un mercato il mercato è quello della salute dei cittadini che non trovano risposta del pubblico molti anni fa non era così a palazzo ferrofini la delegazione della cgl viene accolta da diversi consiglieri regionali e dal presidente dell'assemblea roberto ciambetti stiamo soffrendo le cose che purtroppo capitano anche in altre regioni d'italia quindi la mancanza dei medici di base quindi noi raccoglieremo queste firme e ma da parte di questa amministrazione non c'è alcuna iniziativa che va verso il privato c'è un problema di liste d'attesa c'è un impegno preciso col nuovo dirigente arrivato il dottor annichiaro che ha come primo obiettivo è quello di contenere ridurre e se possibile appunto non dico azzerare ma rendere compatibili le liste d'attesa con le esigenze degli utenti le raffirme che abbiamo raccolte le abbiamo fatto questa raccolta nei mercati nei posti di lavoro nelle piazze abbiamo da questo punto di vista visto i cittadini esasperati per l'attesa dei tempi di risposta del sistema sanitario per questo chiediamo al consiglio regionale un chiaro cambio di passo consegnando la presa di posizione molto chiara di migliaia di cittadini e tante sono anche le reazioni politiche c'è una situazione allarmante siamo quasi di fronte alla tempesta perfetta liste d'attesa infinite carenza di personale sanitario carenza di medici siamo di fronte a prestazioni sanitarie che incominciano a mancare ci sono i primi veneti che iniziano a non curarsi più siamo sempre più spesso ostaggi del privato già sindacalista della cgl consigliere regionale del pd jonathan montanariello è stato tra i primi ad accogliere a palazzo ferrofini la delegazione che consegnava 15.000 firme raccolte in provincia di venezia per salvare la sanità pubblica con lui tra gli altri erica baldin del movimento 5 stelle promotrice di una proposta di legge regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa se si prenota all'interno dell'ospedale si hanno mediamente tre giorni nell'intramenia quindi nel privato convenzionato all'interno dell'ulsa ma se si vuole andare nella struttura pubblica per curarsi con il pubblico si devono aspettare mesi se non addirittura anche un anno che è evidente che ci vogliono riforme strutturali e non con dialetto vento sticono tacconi ecco i tacconi non danno quelle risposte che i cittadini veneti attendono a molto tempo su una materia che è un diritto la salute comunque è un diritto fondamentale fin qui le opposizioni i consiglieri regionali eletti nel veneziano nelle file della maggioranza invece invitano ad una lettura dei fatti diversa la sanità veneta sta gestendo adesso ancora le liste d'attesa del covid non dimentichiamoci di quello che è stato il covid e di come la regione veneto ha gestito il covid allora ripeto che ci siano dei problemi di gestione per carità ma ci sta anche nella materia la mancanza di medici di professionisti di infermieri non è certamente dovuto all'inseno regionale la regione mette a disposizione tutte le risorse che può mettere in termini economici ovviamente se poi dopo i parametri sono dettati a livello nazionale non è che possiamo sfornare noi medici o infermieri come fosse il pane i temi della sanità a palazzo ferro fini quelli dell'immigrazione a palazzo balbi dove è stato firmato un protocollo condiviso fra regione anci e prefetture è una delibera che abbiamo approvato si fermerà un accordo con prefettura di venezia per le prefetture e comuni quindi anci con il sindaco conte per cercare di coordinare quello che è poi il grosso problema dell'arrivo di migranti nei territori a preoccupare il governatore che non ha risparmiato una frecciatina all'europa è il rischio di un'altra cona il cui hub il più grande del veneto è stato chiuso definitivamente a dicembre 2018 noi non vogliamo rivedere situazioni tipo cona o altre situazioni che abbiamo avuto in passato ovvio è che i numeri sono numeri importanti la preoccupazione è tanta e soprattutto io faccio appello all'europa che se c'è batta un colpo perché è un convitato di pietra che non dà segnali e dall'altro al governo che si trovino tutte le modalità per fare accordi a livello internazionale con i paesi fra l'altro dai quali partono questi migranti affinché si possano creare condizioni lì perché possano restare direttamente del loro territorio le proiezioni a livello nazionale sono inquietanti continua zaya perché se l'anno scorso sono arrivati via mare 90 mila migranti quest'anno potrebbero raddoppiare da qui l'importanza del protocollo che sarà siglato nei prossimi giorni a cacorner stiamo perseguendo con la regione un'attività di grande collaborazione istituzionale perché l'immigrazione come vi avete presente è un fenomeno che va governato questo protocollo ci aiuterà a governare meglio l'immigrazione ma secondo il segretario veneto del pd martella la regione è in ritardo si sapeva da mesi che questa nuova ondata migratoria sarebbe arrivata ha detto ma solo ora emergenza in corso la regione si appresta a firmare il protocollo con i comuni serviva e serve continua una strettissima collaborazione un forte supporto ai sindaci del territorio che devono gestire in prima persona gli arrivi da lampedusa invece conclude siamo di fronte a un cortocircuito che sta producendo le fibrillazioni di queste ore ritorniamo alla crona che i militari della guardia di finanza e funzionari dell'agenzia dei monopolio hanno eseguito una serie di ispezioni per contrastare il gioco d'azzardo irregolare verifiche tra maggio e giugno in bar a ristoranti sale slot e tabaccherie della provincia per un totale di 21 esercizi controllati 11 le violazioni amministrative riscontrate e sanzioni per circa 100 mila euro il caso più eclatante è stato quello di un locale nella zona di Porto Gruaro nel quale 32 apparecchi elettronici erano tenuti accesi e collegati durante la fascia oraria di interruzione quotidiana inoltre le vetrine d'ingresso erano state oscurate con pannelli per limitare completamente la visibilità dall'esterno al titolare dell'attività è stata combinata una multa di 80 mila euro poco prima di mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Silvio Trentino a San Donà di Piave per soccorrere un operaio che si era infortunato mentre si trovava sul tetto del centro culturale da Vinci i pompieri arrivati dal distaccamento locale da Mestre hanno caricato l'infortunato precedentemente stabilizzato dal personale del SUEM sulla barella dell'autoscala portandolo a terra l'uomo è poi stato trasferito in ambulanza in ospedale le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora adesso per noi la pubblicità fra poco di nuovo in diretta TG Venezia andiamo a Mestre dove il comitato Villaggio San Marco ha presentato un ricorso al TAR contro la costruzione di un grattacielo e un centro commerciale in un'area verde del quartiere abbiamo presentato un ricorso che in 15 punti che evidenzia come una serie di elementi a nostro avviso importanti determinanti che concorrono a deteriorare la qualità della residenza in cui noi viviamo non si arrendono i residenti del villaggio San Marco di Mestre dopo le petizioni e le manifestazioni ora arriva anche un ricorso al TAR per scongiurare l'edificazione in un'area verde del quartiere di un grattacielo alto 60 metri ed un centro commerciale grande 4500 metri quadri un progetto fortemente caldeggiato dal comune tanto quanto osteggiato dai residenti secondo i quali a rigor di legge c'è un limite anche alla discrezionalità di scelta di un'amministrazione comunale si tratta di norme del PAT e del PTRC che tutelano il complesso residenziale del villaggio San Marco queste norme tutelano il complesso appunto del villaggio San Marco come architettonicamente storicamente complesso di pregio e quindi inserire una torre di 60 metri e un capannone commerciale in mezzo alle casette di due piani che sono state progettate da dei professori dello UAB negli anni 50 e appunto per questo ci sono queste norme di tutela ecco questo a nostro avviso comporta una palese violazione di questi strumenti che sono sovraordinati per affrontare il passaggio in tribunale la mobilitazione del quartiere San Marco si è arricchita anche di una raccolta fondi tra residenti e commercianti siamo al primo stadio potremmo arrivare alla Cassazione per cui il primo stadio noi l'abbiamo affrontato con 6 mila euro di spesa ad ora sia nella fase delle prime osservazioni sia nella fase attuale della presentazione del ricorso abbiamo ancora dei fondi messi via pronti ad affrontare eventualmente anche livelli successivi di confronto a livello di magistratura nuovo episodio di turismo cafone e nuovo tuffo da un ponte a Venezia domenica il tuffo è avvenuto addirittura dalla ponte della Paglia il ponte che arriva degli schiavoni attraverso Rio di Palazzo parallelamente al ponte dei Sospiri un tratto contraddistinto da un intenso passaggio di gondole dove sarebbe potuto avvenire un grave incidente visto che come sembra il tuffatore ha preso la rincorsa buttandosi in acqua senza guardare se il canale fosse libero o meno il tuffatore si è poi allontanato assieme a due amici che hanno ripreso la scena le indagini sono ovviamente in corso da Venezia e provincia è davvero tutto anche per questa edizione vi lascio al meteo, buona serata Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino Benvenuti al meteo siamo nel clou di un'intensa e insistente ondata di caldo portata dall'anticiclone africano bel tempo e tassi di umidità davvero elevati il dettaglio di mercoledì 12 luglio sul Veneto sarà soleggiato con cielo limpido tranne in montagna dove nel pomeriggio sera non sono esclusi dei temporali sparsi dal punto di vista termico insisterà ovunque il caldo afoso caratterizzato da notti tropicali temperature minime infatti comprese tra 18 e 25 gradi massime sui 31-37 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso tanto sole, cielo, sgombro, danubi in serata sui monti sarà possibile una maggiore variabilità con qualche rovescio temperature minime sui 22-23 gradi massime intorno ai 32-33 all'incirca infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove di fatto avremo poche novità sarà soleggiato ma con qualche temporale al pomeriggio specie sui settori più settentrionali della regione temperature minime intorno ai 19-20 gradi massime sui 35-37 gradi dal meteo per ora è tutto vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia Silea Legnami le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.